ecco dovremmo essere già in diretta e intanto vi ringrazio di aver partecipato a questo incontro su l'europa la guerra che l'osservatorio europea sta promuovendo do subito la parola andrea amato per introdurre la puntata di oggi e poi agli ospiti grazie ancora andrea e la parola sì grazie roberto chi di voi ha ricevuto una prima versione della locandina avrà visto che c'era no c'era indicato che questo nostro webinar avrebbe avuto due coordinatori del dibattito e ovviamente una cosa insolita insomma non servono due coordinatori la verità è che io e alessandro scassellati siamo diciamo i curatori della newsletter tutti e due insieme ovviamente al sostegno di roberto morea e quindi siccome la nostra il nostro seminario è diciamo strettamente legato alla numero uno della newsletter che è appena uscito da pochi giorni proprio sul tema l'europa e la guerra allora va beh insomma c'erano i nostri due nomi però adesso io chiederei subito ad alessandro ad alessandro scassellati di fare una breve carrellata sulla nostra newsletter che tra l'altro ecco mi ti permetto solo di dire questa cosa sembrava essendo uscita dieci giorni fa sembrava abbastanza abbastanza premonitoria perché in questi dieci giorni le cose sono sono precipitate sono andate avanti diciamo sulla via della belligeranza o della bellicosità di questa europa alessandro a te la parola grazie andrea dunque appunto il numero che che poi è il numero uno noi avevamo fatto anche un numero zero il numero uno è stato dedicato appunto all'europa e alla guerra la newsletter ha diciamo una sua apparente complessità perché è composta sostanzialmente da quattro sezioni per ciascun tema e sotto tema eh e quindi abbiamo degli articoli che sono diciamo più recenti e che sono soprattutto nella nostra area come dire politico culturale poi ci sono degli articoli che noi chiamiamo correlati e poi c'è diciamo anche tutto il resto se vogliamo di un mondo anche politico cultura culturalmente e politicamente più ampio e poi ci sono dei documenti per cui cerchiamo di recuperare eh diciamo anche eh diciamo i materiali diciamo così originali insomma da cui parte poi spesso la discussione allora questa newsletter era articolata sostanzialmente è stata articolata sostanzialmente su eh quella che noi chiamiamo la la via della guerra e quindi diciamo una serie di articoli che ricostituiscono un po' come eh diciamo ci si è mossi e ci si è avvicinati verso quello che appunto è un è un clima di guerra di fatto ecco siamo partiti anche ricostruire riprendendo un po' di materiali sull'antefatto che in realtà è stato un po' rimosso e se ne parla poco che è quello della guerra in Jugoslavia il praticamente il decennio millenovecentonovanta millenovecentonovanti poi inevitabilmente un tema è quello della guerra in Ucraina seguito poi dalla guerra a Gaza e in Medio Oriente e anche dalla guerra nel Mar Rosso perché diciamo in realtà esiste la guerra in Gaza esiste la guerra più in generale in Medio Oriente parliamo soprattutto combattuta dagli Stati Uniti in in questo in questo caso no rispetto al fatto che apparentemente le loro basi militari in Iraq in Siria e altrove sono bombardate e quindi mentre diciamo gli israeliani sono eh diciamo combattono nei confronti di Gaza e un po' del Libano ecco gli Stati Uniti fino adesso anche con lo Yemen no hanno cercato di coprire questa guerra poi ci sono abbiamo cercato di fare una piccola sezione sui conflitti negletti e quelli in gestazione e qui ce ne sono c'è il materiale ne avremmo potuto mettere tanto però diciamo c'è soprattutto la dimensione africana ecco dove ci sono eh guerra in corso ormai anche da parecchio tempo eh poi c'è una sezione dedicata al commercio delle armi e poi anche all'Europa strategica ecco su cui in qualche misura l'abbiamo visto anche alla conferenza di Monaco no? Di questi giorni ecco il panico assoluto per cercare poi di trovare una soluzione anche in vista della possibile prossima elezione di uno come che si chiama Trump e che mette in discussione completamente tutti i ragionamenti di cui gli ultimi tre anni e mezzo diciamo con Biden sono stati fatti eh sia dagli Stati Uniti che dagli anche dagli europei e infine eh diciamo il tema appunto che la conferenza di Monaco è tornata eh esplicitamente è quello del riarmo degli stati membri no? E l'immagine rimane quella di Scholz e Pistorius che mettono la prima pietra alla eh alla diciamo alla nuova fabbrica delle eh di armi della Rhein della come si chiama eh della Rheinstall tedesca no? Quella che dovrebbe coprire produrre i famosi centoquindici eh che mancano da centocinquantacinque da eh munizioni per l'artiglieria che mancano negli ucraini eh io diciamo ecco questo è un po' era un po' è un po' quello che c'è dentro ovviamente eh ci sono trentaquattro pagine di eh di rassegna ecco diciamo abbiamo cercato di raccogliere il più possibile materiali anche facendo non solo nell'immediato facendo anche un po' di ricerca ed è il modè il metodo che cercheremo di utilizzare che invece sarà dedicata al tema delle rivolte agricole ecco io ho più o meno finito ecco volevo solo richiamare appunto un po' le cose che abbiamo fatto e quindi forse potremmo passare diciamo alla alle alle relazioni e quindi darei la parola diciamo a Pasqualina Napoletano per cominciare grazie mi sentite? Sì ci sentiamo grazie a tutti buonasera avete detto moltissime cose già eh dalla pubblicazione della nostra newsletter di cui io mi ero occupata di fare quella piccola premessa il quadro diciamo si è fatto molto più fosco abbiamo avuto la morte di Alexei Navalny un omicidio di regime una stretta ulteriore del regime putiniano sulla società anche i fiori in Russia sono diventati una minaccia eh però nel frattempo l'esercito russo aveva una vittoria importante quella conquista la conquista di questa è sempre difficile pronunciarle queste eh consonanti appiccicate no eh strategicamente molto importante nel Donbass quindi purtroppo cioè questo quello che era uno stallo eh si sta rimuovendo con un costo umano incredibile anche questa volta da parte dei soldati in tutti e due i fronti Putin riparla nel frattempo anche di negoziati ne parla a parole viene preso come un impostore e quindi non viene preso in considerazione ma stiamo entrando sabato prossimo sarà il terzo anno di guerra e tra le altre cose nel discorso di Putin lui ricorda quel momento di marzo duemilaventidue in cui vi furono dei negoziati in Turchia dove sembrava che si fosse molto vicini alla possibilità di trovare un accordo basato su che cosa fondamentalmente sulla neutralità dell'Ucraina lo stesso Prodi ho sentito il suo discorso al convegno del del PD sull'Europa ricordava che l'Europa in tutto questo tempo non ha fatto nulla assolutamente e che ha fatto molto di più la Turchia ricordando anche lui quei negoziati che sembravano appunto quasi a un passo dal fermare quella guerra in quell'occasione vi fu anche una eh storia che andrà chiarita prima o poi l'uccisione di Denis Kireyev ve lo ricordate il negoziatore che fu trovato ucciso non si capisce se dai servizi russi dai servizi ucraini era un traditore eccetera comunque questa guerra è costellata appunto da fatti che forse solo gli storici e i nostri nipoti riusciranno a sapere e tuttavia questa settimana le novità più importanti hanno riguardato l'Europa l'avete detto voi la conferenza sulla sicurezza di Monaco e insomma ragazzi c'è da tremare rispetto agli orientamenti che sono usciti da lì anche perché è stato decretato mentre prima eravamo solo alcuni di noi che sostenevano che l'Europa era in guerra e lì è stato a Monaco è stato ufficialmente decretato la fine dei tempi di pace in Europa e quindi siamo nel cuore di questa accelerazione nel cuore di questa accelerazione c'è la Germania soprattutto a me ha colpito molto un retroscena di un'agenzia dove in quell'incontro in Monaco dove c'erano centinaia di persone deputati dove un rappresentante del congresso americano conservatore rimane stupito dalla verve bellicista di un esponente verde tedesco che forse spiega spiega molto degli umori che stanno circolando stanno circolando in Europa e tuttavia già Roberto Musacchio gli devo dare atto che aveva scritto un articolo preciso già di aggiornamento della newsletter quando appunto ricordava le dichiarazioni della Carina Barley la capolista dell'Espedè che invoca un arsenale autonomico per l'Europa lei è la vicepresidente del Parlamento europeo e sarà la capolista nelle prossime elezioni avete ricordato anche voi Pistorius e Scholz che inaugurano la mega fabbrica dei proiettili ma la Ursula von der Leyen presenta un programma praticamente per la prossima legislatura europea oggi nella conferenza stampa ha dichiarato l'aveva già detto anche lei a Monaco che se sarà candidata e poi eletta nella trafila europea che porta all'elezione della presidenza della commissione lei proporrà un commissario per la difesa ora questo commissario della difesa poi ci tornerò un attimo perché fa capire un po' quali possono essere le sue le sue funzioni in questo momento Pasqualino deve riaprire l'audio hai chiuso l'audio in avvertitamente non l'ho chiuso io eh non lo so siamo rimasti alla von der Leyen che presenta appunto e lei verrà ehm nominata a speech candidate dell'aten della sede del congresso che si prendrà prossimamente credo a Budapest comunque eh il suo programma mi pare abbastanza chiaro ehm il commissario alla difesa con un budget importante già si si ragiona al fatto che si potrebbero impiegare cento miliardi di euro a debito quindi la Germania supera questo tabù del debito e lo supera questa volta per reimpostare un suo progetto di sviluppo economico basato sostanzialmente sulla industria militare questo mi pare di capire la signora prima di fare questi allunci si è dovuta consultare con Macron il quale detiene l'atomica il seggio alle Nazioni Unite e il primato sulla sicurezza in Europa data dalla sua storia e da quello che la Francia ha e detto questo eh è chiaro che questo la dice molto sulle prossime elezioni europee di quello che c'è in ballo perché quello che non si è mai trovato per una seria transizione ecologica e per una seria politica redistributiva si trova improvvisamente sul investimento sugli armamenti e quando si investe sugli armamenti prima o poi gli armamenti si usano e visto che la guerra già ce l'abbiamo con la Russia e la prospettiva e la guerra con la Russia anche la guerra in Ucraina riassume un'altra eh valore in questo momento ci sono alcuni osservatori che dicono che tutto questo è stato fatto per rimotivare le opinioni pubbliche i governi rispetto alla guerra ucraina perché in questi due anni le motivazioni si erano molto allogorate io non so se è così o non è così la verità è che eh il nemico è individuato pare che non ci siano all'orizzonte nessuna possibilità di negoziato e e quindi credo che dovremo fare i conti purtroppo con questo scenario e mh siccome voglio essere breve perché abbiamo un sacco di cose da dire e tante persone che devono parlare va tutto bene no non va per niente bene nel senso che c'è un problema di come si eh di quali rapporti con la Nato questo già Roberto nel suo articolo lo come devono essere se ci deve essere un esercito o più eserciti ma uno o più eserciti la cosa inquietante su cui vi prego di porre attenzione è che nel dibattito già a Monaco a Monaco gli specialisti perché era pieno di militari generali sottoposti eccetera sostengono che la eh modello esclusivamente tecnologico degli eserciti non va più bene perché abbiamo visto che servono i soldati in tutte le ultime esperienze questi servati boots on the ground come li troviamo non bastano soltanto i militari di carriera servono o i riservisti o le leve tant'è vero che Crosetto aveva anticipato che bisogna preparare le opinioni pubbliche al fatto che bisognerà tornare a trovare questo e in più c'è un problema istituzionale grande come una casa perché tutte le politiche europee che riguardano la PESD politica difesa e la PESC politica estera sono politiche intergovernative che confliggono con le costituzioni nostre quindi come vedete c'è da dibattere moltissimo l'ultima cosa la voglio dire su Gaza e sulla Palestina perché non possiamo dimenticare la tragedia più grande che abbiamo sotto gli occhi ho visto che bevi l'acqua sollecita non so se l'avete ricevuto anche voi un boicottaggio della RAI perché è vergognoso come si stia nascondendo quello che succede lì se non per pochi meritori servizi di alcuni giornalisti ed inviati o di alcuni che hanno agganci con i reporter palestinesi che mandano delle immagini da casa ora io l'attenzione la voglio porre su questo punto come avete visto finora le pressioni su Netanyahu sono state verbali l'America non ha fatto un atto che fosse uno per far capire che dalla sue dichiarazioni passava a qualcosa di più concreto e così gli europei e tutto e tutto il resto gli unici in Europa che stanno proponendo quale qualche misura da discutere eventualmente sono la Spagna e l'Irlanda che dicono almeno di prendere in considerazione di interrompere alcuni rapporti commerciali con Israele in questa in questa situazione tuttavia non vi sfugge che l'insistenza di Biden sul discorso dello stato palestinese lui lo ripete continuamente Netanyahu per ora non l'accetta c'è qualche anticipatore che dice che forse tra qualche tempo Netanyahu sarà costretto ad accettarlo e e allora io vorrei porre la vostra attenzione su questo punto quando si parla in questo caso di stato palestinese si parla degli accordi di Abramo gli accordi di Abramo contenevano nel loro interno un'ipotesi sullo stato palestinese negoziato anche con gli Emirati e con i paesi del Golfo e forse anche con l'accordo di qualche paese arabo chiaro tutto questo sulla testa dei palestinesi naturalmente per imporre una soluzione ai palestinesi bisogna trovare il momento di maggiore loro debolezza quindi io non escludo che essendo questo il momento di maggiore debolezza ed essendo forse possibile per gli Stati Uniti riallacciare un discorso di relazione tra Israele e una parte importante nel mondo arabo non si imponga questa soluzione che non sarebbe la pace perché poi se avremo tempo potremo entrare nel merito io però vi segnalo un articolo che è comparso sulla newsletter del CRS dell'ambasciatore Bascone l'ambasciatore Bascone spiega che cos'è l'accordo cioè quale sarebbe l'ipotesi di accordo che si sposa molto bene con la legge di rango costituzionale che Netanyahu ha fatto approvare nel 2018 dalla Knesset in cui si dichiara lo stato eh Israele lo stato degli ebrei chiaro lo stato degli ebrei presuppone la messa in discussione della cittadinanza e una divisione etnica delle comunità quindi eh le due cose messe insieme fanno un quadro molto inquietante la ultima cosa che voglio dire è che questo quadro questo quadro è stato composto nella famiglia Biden e nella famiglia Trump perché chi è uno degli autori il pensatore di questo accordo è il genero di Trump Jared Kushner che è il marito di Banca il quale è anche consigliere era consigliere senior della Casa Bianca a quell'epoca quindi io vorrei che eh si fa presto a dire Stato palestinese ma nessuno si piglia la responsabilità di approfondire questa questione vi ringrazio grazie Pasqualina eh darei la parola a Michela Ricale ricordando che nella scorsa primavera eh quando discutemmo all'interno dell'osservatorio lei ci segnalò mh il fatto che la Nato nel frattempo aveva cambiato la sua strategia e da una una missione di difesa euro atlantica è diventata eh tra Madrid e la primavera diciamo invece un un'organizzazione che ha uno sguardo globale cioè che può intervenire su il mar cinese oppure forse anche nei Caraibi ecco quindi eh noi europei stiamo dentro questa roba e quindi siamo pronti per andare eh diciamo per anche oltre diciamo quella che era la missione storica prego Michela allora sì cerco di recuperare il mio intervento e eh rispondere anche un poco a Pasqualina perché la mia visione della guerra è completamente diversa sembra rispetto eh alla sua sì è vero la Nato nel duemila e ventuno ha cambiato il suo strategic concept e ha segnato un punto di svolta fondamentale perché si è trasformata definitivamente da foro militare di difesa a foro politico con poteri di ingerenza diretti nelle politiche governative degli stati che riguardano i domini che lei si è autoassegnata se prima i domini cioè i scenari in cui i militari agiscono erano soltanto quelli delle bombe adesso i domini e lo scenario è molti dominio ossia vengono ehm inglobati ehm altri eh altri scenari a partire da ehm la 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 comunicazione in media eh internet la moneta la finanza eh il dominio economico è un dominio di guerra il dominio dell'informazione l'abbiamo detto con l'info war è un dominio di guerra ma addirittura il cambiamento ehm il cambiamento climatico ehm e su questo ehm ci sarebbe anche da fare una piccola una piccola parentesi il cambiamento la transizione ecologica sarebbe piuttosto da chiamarla la transizione elettronica perché di fatto quella che ci impone la transizione ecologica per come la vede la Nato e viene inglobata poi delle politiche dell'Unione Europea è semplicemente il il tentativo di creare nuovi mercati in un ambiente commerciale ormai esausto perché che cosa sta succedendo? Allora diciamaci la verità la guerra non si fa per i diritti ma si fa per rideterminare ridisegnare poteri poteri e anche ambiti di influenza in un momento in cui il dominio egemonico unipolare degli Stati Uniti stava entrando in crisi questi non hanno trovato niente di meglio da fare che eh asserraiarci tutti contro questo fantomatico nemico comune che è la 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 dittatura i di di regimi autoritari e allora ci preoccupiamo di Navalny quando domani e dopo domani c'è Assange che si gioca le sue ultime carte prima di essere eh estradato negli Stati Uniti e non perché aveva affrodato un un perché aveva affrodato lo Stato con le tasse oppure perché aveva truffato una casa profumiera internazionale dentro al dentro alla sua terra ma perché ha rivelato al mondo le verità dello schifo che significa il potere egemonico e che cosa significa la guerra per gli Stati Uniti dagli Stati Uniti non ci possiamo aspettare nessun aiuto per la pace ma anzi loro sono il più grande nemico della pace internazionale il più grande la più grande minaccia alla pace e la sicurezza di noi tutti perché ci stanno trascinati ci hanno trascinati in una nuova guerra mondiale perché non è da oggi che siamo in guerra già nello strategic concept si diceva amici miei questa non sia l'Europa non è più in pace ma siamo in guerra non è una cosa di oggi e la guerra non fa due anni o non si entra nel terzo anno di guerra ma si entra nel tredicesimo anno di guerra che è cominciato nel duemila e quattordici con il golpe dell'euro maiden perché non ci non ci focalizziamo solo su quello di sbagliato fanno gli altri ma iniziamo a farci un poco di autocritica noi come potenze occidentali che cosa abbiamo fatto per mantenere o coltivare la pace in questi anni soltanto alimentare un modello di sviluppo predatore che è andato all'estero soltanto per cercare di alimentare come dice biden il lo stile di vita degli americani non è in discussione e sono quelli che consumano pro capite più di tutti quanti e non è possibile anche in questo senso immaginare una conversione ecologica tutto a carico dei paesi poveri e delle persone poveri quando sono loro sono i quelli che hanno contribuito in minor modo allo scempio che noi oggi viviamo ecco ehm la la questione è davvero molto complicata diciamo stiamo stiamo facendo la guerra per ridisegnare poteri prima di tutto poteri economici ehm eh la la Pasqualina ha detto alla conferenza di Monaco stavano tutti panicati perché pensavano dicevo mamma mia che succede se vince Trump perché effettivamente Trump già durante la scorsa legislatura aveva mostrato grande disinteresse per le vicende della Nato la questione è che il diavolo fa le pendole ma non i coperti quando hanno deciso di ehm pompare questa guerra alla porte dell'Europa ehm pensavano che tra sanzioni e bombardamenti la Russia sarebbe capitolata in cinque minuti e invece dopo tre anni di guerra l'Europa sta morendo economicamente e la Russia invece è il paese economicamente più forte nonostante sia il paese in assoluto più sanzionato ecco eh in questo noi stiamo in guerra e noi europei la stiamo perdendo e non servirà a niente fare la difesa comune non servirà a niente quando noi ci stiamo costruendo un precinto intorno a una serie di paesi perché la comunità occidentale noi siamo una serie di paesi in piena decadenza con mercati esausti mentre il resto del mondo quello che noi vogliamo e ci ostiniamo a a considerare come nemici sono in potenza le più grandi economie del mondo loro di noi se ne fottono cioè non non bisogna un poco invertire la prospettiva che mi sembra un po' troppo eurocentrica quella adottata eh da noi il resto del mondo senza l'Europa va alla grande ehm la riconversione ecologica perché cosa si combatte la riconversione ecologica si combatte per andare a piglia risorse come la sosteniamo sta risorse voi la chiamate le ecologica io la chiamo la 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 conversione elettronica quando noi non abbiamo nessuna capacità industriale né di materie prime per i chip non sappiamo eh estrarre e lavorare le terre rare come la vogliamo fare questa evoluzione ehm ecologica e questa rivoluzione digitale non si sa cioè dall'Europa e dal Parlamento europeo e dalla Commissione escono documenti che non sono in nessun modo ancorati con la realtà vera che noi ci troviamo a vivere stanno vivendo una favola ci stanno costringendo ad andare a schiantarci appresso alle barzellette che ci raccontano ehm io non so quanto ho parlato ci ho ancora un po' di tempo Alessandro direi un altro minuto e mezzo dai vabbè vabbè un minuto e mezzo un minuto e mezzo rispetto alle guerre alla alle guerre che verranno segnalo la questione venezolana dove si vota ehm tra qualche mese l'Europa già sta dicendo ah no 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 non sono legittime le elezioni perché là è l'unico petrolio che gli Stati Uniti si possono ancora andare a prendere perché nel Medio Oriente hanno scassato tutto gli Uti la guerra nel Mar Rosso ma gli Uti fanno parte della stessa guerra di Israele loro attaccano gli Stati Uniti attaccano le navi europee perché sostengono Israele la l'unica difesa nel Mar Rosso è la pace schierarsi per la pace contro il genocidio incivile che si sta ehm che si sta che si sta commettendo e io mi fermo poi magari reintervengo se c'è qualche domanda grazie grazie Michela avrei la parola a Maria Luisa Boccia ricordando che il CRS appunto ha una segna stampa che io ricevo ogni sabato eh molto molto nutrita molto forte e molto interessante prego grazie grazie Alessandro e grazie all'osservatorio per questa occasione di confronto e soprattutto per perché quella è destinata a durare l'iniziativa della newsletter che ho trovato molto bella fatta molto utile soprattutto perché appunto mette insieme testi e articoli e documenti e nel tempo non solo quelli attuali recenti eh che attengono quindi ai fatti di oggi ma permette di ricostruire un po' la lettura che è stata data e quindi anche a capire meglio l'andamento del percorso diciamo del l'andamento delle delle vicende fino a oggi allora venendo un po' alle questioni che dobbiamo siamo in guerra scusa Maria Luisa devi rimettere usate sì sì è la freccetta si è andata per conto suo o dicevo siamo in guerra si è infranto il tabù perché non si poteva nominare la guerra in generale appunto operazione militare speciale no tutte le cose che sappiamo gli aiuti non è e però nota giustamente eh Lucio Caracciolo in un'intervista che ha fatto al fatto ma che in qualche modo riprende i temi dell'ultimo numero di di Nimse che è molto ricco e molto utile per ragionare sulle questioni in alto che gli italiani non si sono ancora accorti non sono del tutto coscienti di essere finiti in una guerra in quella che lui chiama la guerra dei mondi una guerra grande fatta di guerre calde come quella appunto in Ucraina e Medio Oriente di guerre a bassa intensità e anche di guerre come dire che si preparano che sono rischiano di esplodere in conflitti veri e propri armati e scompri armati in diverse aree del mondo oltre appunto alle tante eh guerre che non nominiamo perché non sono quelle che vengono considerate determinanti per i rapporti mondiali diciamo soprattutto tra potenze non se ne sono accorti perché in qualche modo continua un discorso una rappresentazione mediatica e un discorso pubblico che tende a ridurre a minimizzare a evitare questo impatto sull'opinione pubblica e questo è uno dei primi problemi perché se c'è una rispetto al che fare una priorità è quella appunto di modificare questo discorso incidere sul discorso pubblico e riportare la rappresentazione e del di quello che accade in una lettura diciamo più coerente con quello o rispetto a quella che viene data e che possa produrre più coscienza. Siamo in guerra ed era appunto la conferenza di Monaco è stata esemplare da questo punto di vista il discorso di Ursula von der Leyen e di prima ancora della conferenza stampa ha affermato che dobbiamo assumere l'economia di guerra spendere di più spendere meglio spendere europeo ha detto cioè per la difesa appunto per una difesa dell'Europa ben oltre la proposta del commissario e quello cioè si punta fortemente a fare della guerra un'occasione per appunto rilancio anche dell'economia europea credibile poco credibile questo è ovviamente rilevante ma quello che conta è che lì c'è un orientamento molto forte rispetto ad apporto appunto che si era presentato nella prima fase di questo rilancio della guerra in Ucraina perché ha ragione Mariella Michela Avicale lì bisogna parlare di quattordici anni non di tre anni di guerra ma comunque e questa investire più risorse nella difesa e negli armamenti e nell'industria militare delle armi è una scelta che è in qualche modo comune a tutti i paesi europei e è un orientamento comune all'Unione Europea questo è un primo dato anche di novità se volete non novità assoluta ma che è indicativo insomma che invece si insista su questo aspetto e questo in un momento in cui ha detto appunto Michela prima ma questo è il titolo del numero di Limes stiamo perdendo la guerra? cioè la vittoria di questa guerra della grande guerra o della guerra mondiale a pezzi chiamatela come volete la grande guerra come dice la guerra dei mondi come dice Caracciolo oppure la definizione di Papa Francesco stiamo perdendo quella non soltanto la guerra in Ucraina dove appunto è sempre più difficile l'ipotesi di una vittoria dell'Ucraina rispetto alla Russia o quella in Medio Oriente perché anche rispetto al Medio Oriente sempre nel fascicolo di Limes e da diversi articoli che lì sono presenti sull'area di conflitto la lettura che prevale è che Israele sta conducendo una guerra anche contro se stessa perché l'obiettivo che si propone distrugge da masse non è un obiettivo da aggiungibile non è realistico liquidare a masse non è un obiettivo realistico perché appunto non è un gruppo terroristico, non un movimento politico e che vende quella guerra una guerra che mette sempre più a rischio anche Israele e mette sempre di più a rischio i rapporti in tutta l'area perché appunto tende ad estendersi non c'è solo un malosso che è già uno scenario di guerra sia pure in altre forme, in altre modalità però è tutta l'area che entra in tensione che rischia di, no, o il Libano che rischia di diventare esplosiva e quindi rompere un... gli equilibri preesistenti sono sempre più precari sempre più difficili in questo contesto l'Europa che fa? l'Europa mi sembra in qualche modo sempre più debole sempre più ripiegata diciamo su se stessa sempre più condizionata anche dagli Stati Uniti che però in qualche modo non fanno una priorità una delle loro tanto più appunto in questa situazione elettorale di contesto elettorale con buone probabilità anche purtroppo che vinca Trump e che comunque condiziona condiziona anche la politica che sta facendo o Biden questa scelta di puntare appunto sulla guerra come qualcosa che può rilanciare l'Europa sul piano economico e anche sul piano dei rapporti internazionali mi sembra del tutto miope e che espone fortemente invece anche all'Europa a un accentuarsi delle differenze e delle tensioni interne l'equilibrio finora garantita che non è che posso entrare nel merito ma insomma bisognerebbe ragionare più a fondo su come sono cambiati i rapporti anche dentro l'Unione Europea il ruolo che ha avuto l'asse Francia-Germania non tiene più non è più quello che garantisce oppure anche allargando Francia-Germania e poi con Spagna Italia no un nucleo di paesi che trascina l'integno i 27 non tiene più perché la Germania è una serie difficoltà politiche ed economiche perché appunto non c'è più quella coincidenza di interessi con la Francia e quindi in qualche modo è una Europa che non ha più un baricentro non ha più un orientamento la scelta della politica di una difesa europea distinta autonoma con quale rapporto con la Nato poi è tutto da vedere e non mi pare che possa sia una carta vincente che possa supplire a questa crisi a questa difficoltà di orientamenti comuni sia sulla politica economica sociale delle scelte interne all'Unione sia di come l'Europa stessa si colloca però vorrei dare altri punti di riflessione uno è quello appunto del rapporto con gli altri paesi quello che viene chiamato il sud del mondo un'espressione un po' troppo generica e che sarebbe più giusto individuare come i paesi che sono coinvolti in questa realtà a partire dalla logica della colonizzazione decolonizzazione decolonizzazione cioè c'è un problema di cultura di identità di collocazione proprio politica geopolitica dell'occidente così rispetto a quest'area al sud del mondo all'insieme di questi paesi che vanno appunto comprendono realtà molto diverse tra di loro quelle coinvolte nel Medio Oriente allargato come l'Africa come invece tutta il continente africano come aree invece anche verso il Pacifico che in qualche modo hanno un protagonismo e possono trovare forme di convergenza che mettono fortemente in difficoltà anche riaffermarsi di una politica occidentale che possa orientare insomma quella illusione di poter di essere il baricentro dell'ordine mondiale e si rivela sempre più appunto quello che è un'illusione non ha un radicamento forte e effettivo però c'è una questione più di fondo noi stiamo vivendo una fase che è sempre più segnata dalla riduzione della politica e guerra sembra che ogni forma ogni questione appunto possa poi trova un suo sbocco nella in questo esercizio della guerra della violenza e del conflitto armato c'è un salto di qualità su questo che è determinato dal vuoto crescente della politica come invece politica dei soggetti politica come costruzione invece delle forme di convivenza che guardate pure d'apporto con la politica interna quella è sempre più segnata da un distacco tra i conflitti le questioni che emergono dalla società e le scelte politiche che vengono fatte dal governo e dalle istituzioni che sono sempre più in termini di repressione e di riduzione diciamo non di interlocuzione di assunzione delle questioni che vengono proposte della società quella su cui si è fatta la forza delle democrazie la politica partecipata la politica dei soggetti collettivi è in crisi dappertutto e questo vendes il ricorso alla violenza e quindi il ricorso anche alla guerra la costruzione dell'altro come nemico che sia un nemico interno che sia un nemico esterno che sia un nemico o sociale o che sia un nemico economico o che sia un nemico appunto politico militare che sempre di più come una scorciatoia che viene imbloccata c'è una è sempre più difficile l'assunzione dell'altro come invece un soggetto con cui fare con cui confrontarsi con cui costruire insieme le risposte ai problemi questo pone domande molto radicali su quale politica può fronteggiare la guerra questa riduzione alla guerra il ricorso sempre più frequente alla guerra anche in senso più proprio più distretto oltre che alla violenza e alla tendente forme di militarizzazione che sono che pervadono anche le società su questo non ci sono risposte però questo apre un ambito di lavoro di ricerca e di che va dalla dai temi appunto del linguaggio del come nominiamo la realtà della costruzione di un discorso pubblico alle proposte invece del che fare perché dobbiamo dircelo i movimenti per la pace il cessate il fermate la guerra il cessate la guerra il fuoco fermate il conflitto sono sempre più in difficoltà non che non ci siano anche rispetto alla guerra in Medio Oriente ci sono state manifestazioni in tutto il mondo diciamo su questo e sicuramente in Europa e negli Stati Uniti anche significative ma incidono quanto come sono anche poco collegate tra di loro questa dimensione europea per esempio ci sono state in tutti gli Stati europei ma con quale collegamento con quali rapporti con quale costruzione poi appunto di pratiche comuni di obiettive di proposte comuni questo mi pare che siano io in quella scritto che avete ripreso nell'altra letter riprendo alcune proposte anche sul che fare che però sono state avanzate ma sono rimaste appunto lì che invece andrebbero rilanciate come c'è di essere insieme ad altre istituzioni abbiamo anche sulla guerra in Ucraina fatto proposte per esempio di rilancio della conferenza di una nuova conferenza di Erz in chi di forme di negoziato che andassero oltre quello i tentativi che sono stati fatti all'inizio soprattutto appunto con la mediazione della Turchia e chiedano avevano anche un altro segno in qualche modo però appunto non hanno prodotto non hanno manca anche la è difficile anche per noi continuare avere come dire un orientamento per cui anche le proposte anche se non ovviamente hanno bisogno di tempo e di lavoro per potersi affermare vengono fatte a volte sono anche molto giuste efficaci e ben impostate e vengono lasciate lì non vengono di presa ecco io credo che dovremmo anche interrogarci di più e lavorare di più insieme per le difficoltà che abbiamo a dare continuità alla costruzione di una politica per la pace che vada che sia per quanto è possibile in grado di fronteggiare una situazione che restia di precipitare sempre di più in una guerra fuori controllo grazie Maria Luisa abbiamo finito con le relazioni che erano programmate quindi adesso possiamo aprire diciamo un po' la discussione io ho Paolo Lembo che mi sembra che debba andare via come primo intervento poi Roberto Musacchio e Franco Russo ecco poi dopo ci saranno altri spero prego grazie io dirò qualche parola brevemente cercando di riconnettermi a chi ha parlato prima di me c'è un'espressione che è diventata sempre più popolare che è quella che si riferisce alla cosiddetta crisi dell'ordine mondiale e credo che sia un'espressione fuorviante perché non è mai esistito un ordine mondiale è esistita una gestione del disordine mondiale e la gestione del disordine mondiale è tradizionalmente esercitata dal paese egemone ovvero il paese che ha vinto l'ultima grande guerra in questo caso la seconda guerra mondiale l'architettura che ha regolato i principi di questa gestione negli ultimi 80 anni si chiama postdam e si chiama IATA siamo ancora in questo contesto ma non solo perché le cose evidentemente si stanno evolvendo altrimenti non avremmo tutte queste ricrodescenze belliche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi e gli ultimi anni siamo in un momento di riequilibrio degli ordini geopolitici mondiali è questo probabilmente quello cui alludiamo quando ci riferiamo all'espressione crisi dell'ordine mondiale e quando l'equilibrio geopolitico internazionale si altera allora si procurano delle faglie queste faglie creano tensioni queste tensioni portano all'occupazione di questi spazi vuoti di nuovi attori di nuovi paesi che prima non avevano spazio decisionale e che adesso lo reclamano tutto questo provoca frizioni queste frizioni provano conflitti perché il riequilibrio geopolitico internazionale non è mai un esercizio grazioso non è mai un processo elegante è sempre inevitabilmente storicamente un processo violento ed è questa è una delle cause delle ricrodescenze delle guerre che abbiamo di fronte a noi che non sono guerre nuove sono conflitti dai radici antichissime ma sono un'espressione di questo processo di riequilibrio io ho la sensazione che ci sia una sconnessione tra i sentimenti delle popolazioni in Europa e la decisione dei governi di cui le popolazioni fanno parte se devo pensare alla relazione tra il concetto di guerra e la nozione di Europa penso a questo vedo una dicotimia tra i sentimenti della pressione e la decisione dei governi che non mi sembra rispettino i sentimenti della gente in generale per esempio mi sembra che ci sia un senso di vergogna morale nell'impotenza che noi tutti abbiamo nell'osservare la tragedia di Gaza evitabile tra l'altro ecco allora dobbiamo chiederci perché c'è questa dicotimia tutti i governi del blocco occidentale perché l'occidente è un blocco marmoreo molto omogeneo c'è un solo paese che prende decisioni tutti gli altri devono osservarle punto non c'è nient'altro da dire quindi è molto illusorio pensare perché l'Europa non si sveglia perché l'Europa non dice niente questo è abbastanza sorprendente pensare in questi termini quando uno è in una ditta in cui c'è un azionista di maggioranza e ci sono azionisti di minoranza è molto semplice uno prende decisioni e gli altri eseguono se non eseguono poi sono espulsi o anche peggio praticamente è molto semplice praticamente però la gente non la pensa così allora dobbiamo capire perché c'è questa discrepanza tra le decisioni dei governi e i sentimenti delle persone beh l'ho appena detto perché l'Europa non è una realtà autonoma e gli stati dell'Europa neanche e abbiamo una libertà molto limitata in questo momento storico allora la domanda che dobbiamo farci è che cosa possiamo fare concretamente per affrontare questo problema colossale cioè come concretamente promuovere un processo che infine si è volto a realizzare una maggiore dignità politica nella libertà strategica e di implementazione delle decisioni in materia di politica estra dell'Europa perché non è il caso in questo momento allora vista la realtà storica in cui siamo ovviamente che non si può eliminare con la forza delle nostre illusioni morali che cosa si può fare concretamente per rendere l'Europa più libera perché l'Europa si è più indipendente e impari a rispettare di più i sentimenti delle popolazioni allora Pasqualina credo ha menzionato e commentando anche le conseguenze e le discussioni intorno alla probabile realizzazione di Wonderlion tra qualche mese e all'intenzione e all'entusiasmo di promuovere che ha russola adesso di promuovere la istituzione di nuovo posto di defense commissioner nella Unione Europea praticamente credo che questa sia una realtà e la domanda che dobbiamo farci è che cosa possiamo fare per evitare questo processo porti alla creazione di un'altra posizione che possa essere di ostacolo a un processo di pace a un processo di vera indipendenza dell'Europa invece di sostegno a un processo di pace pragmatico e reale allora quello che bisogna evitare è che si incominci che si accetti di essere parte di questa epifania militarista per cui questa posizione divenga soltanto una posizione atta a promuovere la militarizzazione dell'Europa attraverso la ipocrita bandiera dello sviluppo economico attraverso la posizione delle armi e certo questo è stato il mantra degli Stati Uniti per questo sono così ricchi questi paesi perché hanno promosso guerra in tutto il mondo fornendo le armi a chi le subiva e quindi il prodotto interno-longo è salito alle stelle questo è il motivo per cui secondo me l'America non ha mai avuto tanta intenzione di prendere sul serio le proprie raccomandazioni di incettivare i paesi europei a diventare più militarizzati non hanno nessun interesse vogliono mantenere l'Europa come un continente debole per poterlo di più manipolare allora perché non incominciamo a pensare se sarà creata questa posizione di commissario della difesa che non si limiti soltanto a una militarizzazione del continente ma che possa essere un'opportunità per promuovere una maggiore e più ragionevole integrazione della politica estera e della politica deterrenza militare che deve far parte di ogni politica estera poi l'industria militare fa parte di questo naturalmente ma non deve essere questa la priorità che mi sembra che sia il caso in questo conier qualcuno parlava della Nato e del fatto che recentemente o in tempi recenti negli ultimi anni la Nato sembra aver espresso una maggiore capacità di ingerenza nel contesto politico domestico interno dei stati europei la Nato è stata creata per questo la Nato ha avuto due obiettivi molto semplici uno motivo di deterrenza o di difesa dell'Europa da possibili attacchi esterni il secondo forse più importante di ingerenza nelle dinamiche politiche domestiche degli stati europei per poter assicurarsi che fossero coerenti con gli obiettivi strategici del partner di maggioranza dell'azienda che noi conosciamo che si chiama azienda nata è molto semplice come spiegheremo se no la strategia dell'attenzione in Italia da Piazza Fontana a Roma qualche anno fa se la Nato non esistesse è molto chiaro questo è molto ovvio praticamente questo è uno degli scopi principali della Nato per questo continuerà a esistere per molto tempo e per questo dobbiamo stare molto attenti a capire milione di Amato e sono tutti i rappresentanti del Parlamento Europeo c'è anche la Pasqualina che ha già parlato chiudere i microfoni altrimenti interrompete chi sta parlando ma vai Paolo penso di aver esaurito praticamente allora il mio obiettivo è dire numero uno il nostro obiettivo deve essere di capire come pragmaticamente possiamo cogliere questa opportunità l'opportunità è data a noi da uno dei motivi fondamentali di questo riequilibrio geopolitico internazionale ovvero il declino della egemonia americana questa è un'opportunità non bisogna essere ansiosi perché abbiamo perso il nostro scudo produttivo questa deve essere un'opportunità questo porterà delle guerre ovviamente dei conflitti ma dobbiamo cogliere questa opportunità per capire come possiamo meglio coordinare la nostra politica estera in Europa come coordinare meglio la nostra deterrenza e come usare questa opportunità per scardinarci a poco alla volta dall'ombrello e dal controllo americano questo è un momento perché il futuro sarà diverso dal passato e quindi se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro per questo vuoto lasciato dalla crisi americana che non finirà domani ovviamente si tratta di un processo plurigerazionale ma dobbiamo capire adesso che può essere un'opportunità se abbiamo la qualità di pensare una politica estera una politica di difesa non di militarizzazione industriale ma di miglior coordinamento che potrà rendere l'Europa più indipendente e forse ad un certo momento farci capire che avremo meno bisogno dello scuro militare americano grazie grazie Paolo la parola Roberto Musacchio prego eh sì come noto io ho un punto di difesa un po' diverso insomma eh diciamo che questa visione dell'Europa un po' cappuccetto rosso che in qualche modo si fa portare dentro la casa del lupo e e che ha bisogno di fare più politiche di essere più unita più consapevole e così via non mi convenge eh penso che nelle difficoltà di cui parlava Maria Luisa ci sia proprio questa una perdita di capacità di lettura della realtà in cui stiamo il partito comunista italiano era molto più capace di leggere quel contesto e infatti aveva elementi di dubbio di criticità rispetto al processo che veniva messo in moto con l'Unione eh dico subito per quelli che non mi conoscono che questo per quanto mi riguarda non significa l'esodo impossibile dalla condizione in cui siamo l'Europa è il terreno di lotta ma se noi pensiamo che il terreno su cui dobbiamo stare è quello di favorire maggiore coordinamento indipendenza più politica secondo me non leggiamo quello che è successo io penso che oramai sono passati trentatré anni trentaquattro anni dall'ottantanove e sia abbastanza evidente che l'Unione Europea si è costruita pensando a una rivincita storica delle sue borghesie rispetto alla sconfitta subita dal percorso nazista di unificazione dell'Europa e soprattutto alla sconfitta sociale subita dai movimenti operai a mosso l'Europa e come si è rapportata all'Unione Sovietica finale di Gorbachev con una chiusura totale ha interloquito con Yeltsin perché era uno che poteva smontare l'impero russo e adesso torna laddove pensava di stare spesso nella sua storia passata al conflitto strategico con la Russia come elemento fondamentale per un rilancio di quello che è nato in Europa ben prima che negli Stati Uniti cioè una politica imperialista su scala globale le prime potenze imperiali sono tutte europee e quindi altro che paura del fatto che viene meno l'impero americano c'è una volontà naturalmente con la consapevolezza che bisogna agire con prudenza che bisogna interagire che bisogna mantenere diciamo il contesto atlantico per quello che ti serve ma insomma in questi 35 anni quanti sono stati appunto si è impostata una politica di espansione sistematica arrivava la Nato ma contemporaneamente arrivavano le aree di espansione economica la Germania si è espansa attraverso la disgregazione del blocco dell'este su un modello ordo liberista che non ha pari nel mondo e quindi con una logica tutta di integrazione di mercato con un egemonismo fatto di sovraccarico di esportazioni che sono state accettate dalle altre borghesia in cambio del fatto che si rovesciasse l'ordine sociale che si era determinato nel dopoguerra insomma Maastricht non è un incidente di percorso Maastricht è l'inversione di tendenza rispetto alle costituzioni democratiche è il compromesso sociale del dopoguerra ditemi che cos'è e non a caso comincia nel 92 cioè comincia come atto che consente di edificare la forma più sconnessa con le concezioni liberali che abbiamo avuto nella modernità cioè il modello funzionalistico ha prodotto uno stato che non ha neanche l'autocrazia della Cina ma è sostanzialmente fondato sulle funzioni che deve esercitare e queste funzioni sono tutte di supremazia economica di ceti di paesi e rispetto alle aree mondiali cioè gli Stati Uniti sono una democrazia liberale l'Unione Europea non è una democrazia liberale cioè non è un incidente di percorso che si è perso il rapporto con i cittadini perché se non c'è neanche il patto fiscale cioè la rappresentanza in cambio delle tasse vuol dire che sei fuori del regime liberale ci si è allargati enormemente naturalmente e contemporaneamente si sono fatti due altre cose enormi un processo di revisionismo storico che non appari perché fatto in vent'anni è stata cancellata la memoria della seconda guerra mondiale cioè le risoluzioni che vota il Parlamento Europeo sulla seconda guerra mondiale sono opposte a quelle che abbiamo votato io e Pasqualina fino a dieci anni fa la signora Ursula von der Leyen nei suoi discorsi al Parlamento Europeo ricorda la regina Elisabetta e non cita Gorbachev che era morto una settimana prima questo corrisponde anche al fatto che si ricostruisce quel blocco che aveva fatto del fascismo l'elemento fondante della modernizzazione europea con l'ingresso di alcuni alcuni paesi e con il fatto che le destre praticano un'egemonia su larga scala attraverso l'idea dell'Europa nazione di nazione noi possiamo continuare a dire che manca la politica che manca il coordinamento che manca ma non lo so semplicemente non c'è in previsione strutturale della modificazione europea quel ruolo del movimento operaio della democrazia socialmente connotata del conflitto che aveva rappresentato il trentennio fondamentale seguito alla sconfitta del nazifascismo allora io penso che non è che si riarmano oggi che c'è una scelta di lungo periodo che adesso viene in compimento e con cui dobbiamo fare i conti dobbiamo fare i conti i movimenti sono in difficoltà certo quelli sull'Ucraina naturalmente ma anche quelli sulla questione della situazione palestinese c'è più movimento negli Stati Uniti perché qui è tale diciamo il percorso del revisionismo storico e di repressione delle ragioni stesse dell'identità che determina il conflitto è difficile fare anche quello allora io penso che per questo noi dobbiamo essere totalmente contrari a qualsiasi idea che proponga il tema dell'avanzamento della politica per via militare cioè noi dobbiamo essere contro qualsiasi nuovo processo di funzionalismo fondato in questo momento su un aumento della spesa militare l'esercito l'aumento eccetera eccetera però dobbiamo vederne le ragioni autoctone io non sono eurocentrico lo voglio lo dico a a chi diceva che c'era questo rischio no il rischio è proprio al contrario che proprio perché uno dice che non è eurocentrico non si rende conto della responsabilità che c'era che ha attualmente l'Unione Europea e penso che da questo punto di vista noi abbiamo bisogno sostanzialmente di farla finita con il metodo funzionalistico per tutte le forme in cui si pratica e rideterminare un rovesciamento dei fattori che parte che parte però dalla contestazione del percorso del trentennio e dalla presa di coscienza di questo percorso che qui manca qui siamo ancora all'idea che arriva bisogna fare spinelli perché non hanno capito che c'è l'integrazione perché se suoni il campanello come dice sempre Andrea Amato risponde la Francia la Germania non risponde l'Unione Europea risponde come l'Unione Europea ho finito grazie Roberto io adesso ho Franco Russo però ecco chiederei a chi vuole intervenire di alzare la mano o di mandare un messaggio così poi gli diamo la parola grazie grazie mille io pregherei Alessandro di a cinque minuti di avvertirmi perché non voglio rubare tempo alle altre persone le relazioni sono state veramente molto ricche secondo me meriterebbero di essere discusse anche in un'altra tornata di seminario di incontro come questo di stasera perché i temi solidari sono particolarmente complicati difficili e meriterebbero appunto io lo faccio proprio come proposta di continuare appunto questo confronto promosso dall'osservatorio ma che insomma già altre forze come il CRS avevano promosso io riprendo la definizione che Maria Luisa Boccia ha riportato da Limes e da Caraccio cioè la guerra tra mondi questa secondo me può essere una prima chiave di lettura per tentare intanto di capire quello che sta succedendo nel senso che Michela non c'è un buono o un cattivo Michela Ricale secondo me ci sono appunto mondi guidati ormai da una logica armata e noi come osservatori sull'Unione Europea abbiamo sempre parlato io voglio riprendere di geoeconomia piuttosto di geopolitica nel senso che oggi come oggi la guerra che si sta scatenando fra diversi mondi e per parlare chiaro ovviamente il mondo degli Stati Uniti il mondo dell'Unione Europea il mondo cino-russo e il mondo diciamo così del sud globale molto frammentato fra di loro è guidata intanto da logiche economiche perché se noi non ci facciamo chiarezza su questo punto crediamo ancora una volta che lo scontro è fra stati e quindi ritorniamo così all'anteguerra prima della seconda guerra mondiale o alla seconda guerra mondiale e questa guerra tra mondi guidati appunto dai interessi economici adesso dirò specificamente quali e come secondo me non richiede più come era negli anni trenta quaranta e cinquanta uno schieramento con uno di questi mondi prendo come sempre riferimento non polemico ma dialogico con Michela a Ricalla non è che noi ci possiamo schierare con la Russia contro gli Stati Uniti e far rivivere il campismo io non credo più in questo credo che oggi ci sia una vera vittima che è il diritto internazionale che è il diritto delle Nazioni Unite del mila novecento e quarantotto che è il diritto appunto alla pace ai diritti ai diritti umani che appunto ha messo in crisi le sovranità o perlomeno sembrava che avessero messo in crisi le sovranità oggi invece le sovranità che non sono più solo quelle statali ma sono molto anche sovranità sovranazionale perché appunto si sono formate e si vanno formando blocchi economici come quello fra Russia e Cino come quella sul sud del mondo fra questi mondi c'è una guerra economica che è anche guerra guerreggiata e perché è guerra guerreggiata? beh la cosa sono abbastanza semplici in questo il capitalismo l'ha dimostrato in tutta la sua storia sono guerre guerreggiate perché bisogna dominare le materie prime perché bisogna ristrutturare le catene del valore le catene della produzione perché bisogna garantirsi i mercati i mercati di sbocco sembrano parole antiche ma messi appunto oggi appunto non più in bocca agli stati con le cannoniere ma appunto a mondi come diceva Maria Luisa questi mondi vanno appunto esaminati vanno appunto analizzati io vorrei ricordare che la Fonderlein quando parla di nuova politica di difesa nuova politica di armamenti la coppia sempre appunto alla riorganizzazione delle produzioni all'interno dell'Unione Europea la Fonderlein parla di difesa perché bisogna difendere appunto le nuove vie d'accesso all'energia parla di difesa perché bisogna difendere la nuova riorganizzazione delle catene produttive parla di difesa perché non vuole essere l'Unione Europea più subordinata appunto ai ricatti di chi controlla le catene le catene di valore o chi controlla le materie prime in questo senso allora io parlo di parlo nel senso non io ma riprendo la terminologia che noi abbiamo cercato di introdurre cioè la geoeconomia cioè bisogna capire l'ultimo discorso di Mario Draghi ce l'ho qui quindi scusate se Mario Draghi parla appunto stiamo entrando in un'era di maggiore rivalità geopolitica e di relazione economica internazionale più transazionali quindi in Unione Europea se vogliamo concentrarci su questo su quest'attore su questo mondo nell'Unione Europea si è fatta ormai strada l'idea che per affermare la potenza economica bisogna anche affermarsi come potenza militare oltre che potenza politica quindi l'idea dell'Europa venere vi ricordate tutte quella discussione è assolutamente tramontata l'Unione Europea e in questo riprendo e ho terminato anche se vorrei dire un'altra cosa riprendo quanto diceva ha sempre sostenuto Roberto Musac con cui su questo sono d'accordo e cioè a dire che l'Unione Europea non è vero che oggi è succube degli Stati Uniti d'Europa ovviamente l'Unione Europea ha un problema di scudo militare ancora per qualche anno non però per altri decenni stanno discutendo appunto di bombe atomiche di cui di cui dotarsi stanno dicendo appunto di forze di rapido intervento stanno dicendo appunto bisogna avere una postura guerriera sempre più forte nei confronti della Russia di Putin però questa questa Unione Europea appunto vuole essere attore insieme agli altri agli altri attori con chi schierarsi io penso che non bisogna schierarsi noi dobbiamo superare questa mentalità appunto da guerra fredda in cui sembrava che schierarsi con l'Unione Sovietica era progressista perché abbiamo abbiamo poi saputo benissimo che quella non era un'opzione né pacifista né progressista oggi noi abbiamo una vittima che sembra non avere anzi non ha degli eserciti e per fortuna secondo me non ha degli eserciti la vittima è il diritto internazionale la vittima è la carta del 48 delle nazionalite la vittima è il nostro articolo 11 della nostra carta costituzionale che non ha eserciti e che secondo me non deve avere eserciti perché bisogna mobilitare appunto l'opinione pubblica i popoli le classi affinché appunto si sconfigga la guerra e prevalgano quegli ideali che pure hanno prevalso per un certo tempo dopo la seconda guerra mondiale vi ringrazio per l'attenzione grazie Franco do la parola a Giovanni Russo Spena prego devi mettere il microfono Giovanni microfono Giovanni buonasera 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 a tutti e tutti soltanto due brevi aggiunte le relazioni sono molto interessanti condivido molto anche così non ripeto alcune alcune analisi alcune proposte condivido ciò che diceva Franco poco fa e credo che appunto l'osservatorio abbia oggi aggiunto materiale a quello che già avevamo per approfondire per approfondire i temi fare articolarli maggiormente io ho soltanto due osservazioni parto da un punto cioè per dare un'idea insomma anche delle prospettive alla fine della scorsa settimana mi pare proprio il titolo di Leonardo che è come sappiamo il colosso italiano della difesa ha guadagnato il 4,2% a piazza affari cioè 18 euro per azioni sappiamo quanto dal 2014 ma poi anche dalla guerra russo-ucraina quindi dall'ingresso della Russia in Ucraina è aumentata la spesa militare è aumentata del 3,6% Giovanni ti posso integrare con un dato solo vi leggo da 24 ore dall'invasione di Russia in Ucraina nel febbraio 22 l'indice globale delle azioni del comparto militare è guadagnato il 36% esattamente esattamente Franco stavo proprio leggendo questo dato infatti avevo detto dal 2014 poi dall'aggressione russa in Ucraina eccetera l'Italia quindi non do i dati appunto li conosciamo l'Italia ha un ruolo specifico sostanzialmente nelle produzioni di eccellenza diciamo infatti vediamo le esportazioni anche nella stessa Israele in questi giorni la questione del Mar Rosso e così via produzione di eccellenza nel settore degli elicotteri delle navi del sistema del sistema di difesa perché sono molto d'accordo con Franco perché è evidente che l'industria della difesa è ricollegata fortemente alla ricostruzione delle catene del valore dopo la crisi profonda della prima fase diciamo della globalizzazione liberista vi è un problema economico immediato su cui penso alla relazione ultima della Fonda Allian cioè dall'inizio della guerra appunto russa in Ucraina quella di due anni fa l'ultima fase circa il 70% degli acquisti europei di equipacciamenti militari è stato effettuato da aziende degli Stati Uniti che producono quindi senza sosta facendo la parte del leone e le classifiche internazionali del settore qui sta avvenendo appunto una fattura voi ricordate che in una precedente relazione che fesi insieme ad altri compagni l'anno scorso osservatorio si parlava delle contraddizioni beh qui è sorta questa contraddizione appunto che è tutta economica e finanziaria cioè nella sua strategia per incentivare il rafforzamento della base industriale dell'Unione Europea e quindi sono d'accordo anche con alcune osservazioni che Roberto faceva Bruxelles rende da subito come dire strutturali ed espande due iniziative due iniziative che già sono in corso sono state state eh di recente per brevità dico soltanto le sigle una è Edirpa e l'altra è ASAP quindi sono in corso anche scritture di regolamenti insomma quindi questa fase come dire neoimperialistica bellicista è molto avanti poi pensiamo che la Banca europea per gli investimenti sarà chiamata secondo appunto la relazione la stessa Ponderlein l'ultima sarà chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nell'erogazione di incentivi alle imprese e tra l'altro i ministri delle finanze ne parleranno proprio venerdì eh all'ecofin informale eh a Gand che si svolgerà a Gand eh quindi la richiesta che arriverà da tutti i governi dell'Unione Europea è che la CDP comunitaria eroghi più prestiti ai progetti in materia di difesa ecco qui quindi parte la base strutturale quindi siamo d'accordo su questo punto quindi il come dire il no all'esercito europeo sono chiaramente l'abbiamo detto in quella relazione appunto già dell'anno scorso all'osservatorio quali sono le contraddizioni il ritorno appunto alla al post al post seconda guerra mondiale mai più Hiroshima mai più Auschwitz e gli articoli delle delle costituzioni tra cui l'articolo 11 della costituzione italiana la seconda osservazione in un attimo che volevo fare è che noi dovremmo anche come osservatorio io credo approfondire il tema di ciò che accade stato per stato ma anche la formazione sociale per formazione sociale nelle singole nazioni in Italia per esempio vi è una fortissima e se ne dovremmo interessare di più una fortissima militarizzazione delle scuole e delle università la militarizzazione delle scuole parte proprio da una pedagogia di massa per cui sono gli alti gradi militari che vengono mandati nelle scuole a me è capitato appunto in una scuola occupata un dibattito appunto del genere ecco pensate che nelle università oggi il maggior numero appunto di come dire di lezioni fra virgolette sono fatte da esponenti della fondazione Medor Leonardo che appunto come sapete è la massima produttrice italiana di fare prima in Europa di armi e quindi di morte tra l'altro io propongo che giovedì possiamo partecipare online giovedì c'è la sesta assemblea nazionale contro la militarizzazione nelle scuole sono molti compagni e compagni che partecipano anche anche se non permanentemente ma sottolineamente ai lavori dell'osservatorio e che io credo che su questo secondo punto cioè quanto si sta appunto militarizzando perché poi questa è appunto è la fase interna dell'imperialismo l'imperialismo ha sempre una fase esterna e una fase di militarizzazione imperialistica all'interno ecco dobbiamo anche vedere quanto sta cambiando in Italia ma anche la Costituzione basta dire che noi adesso abbiamo il comando nella missione appunto nel Mar Rosso e non è passato nemmeno formalmente nel Parlamento nemmeno formalmente quindi io credo che tutti i risvolti istituzionali di ciò che veniva detto anche da Franco poco fa noi probabilmente anche dal punto di vista proprio delle istituzioni italiane della Costituzione italiana dovremmo vederlo forse con maggiore attenzione insomma parlo soprattutto di me stesso ecco queste sono le due osservazioni che volevo fare grazie grazie Giovanni io non ho altre persone che vogliono intervenire pensare penserei però di dare la parola se ha voglia di intervenire a Michela visto che qualche critica quella l'ha ricevuta ecco quindi magari ti do la possibilità di dare una tua risposta prego allora ti ringrazio l'avrei chiesta assolutamente la replica allora secondo me Franco c'hai ragione qua non si tratta di essere dalla parte di Putin per carità si tratta semplicemente però di valutare le posizioni oggettive dal punto di vista del diritto internazionale che i vari attori assumono anche all'interno poi dell'Assemblea delle Nazioni Unite le varie posizioni che effettivamente che effettivamente portano e proprio a partire dal diritto internazionale non si può non stare dalla parte diceva bene la compagna che è intervenuta dopo di me con i paesi che emergono dai processi di decolonizzazione e che oggi cominciano a pretendere una soggettività piena nel diritto internazionale e in questo io non credo che il diritto internazionale sia la prima vittima anzi per il diritto internazionale questo è un grande momento perché anche dal punto di vista del diritto anche ciò che succede intorno alla questione del genocidio di Israele è molto importante però questo è esattamente il momento in cui il diritto internazionale può affermare se stesso e i principi espressi dalla carta dallo statuto e dai suoi principali dai suoi principali trattati perché quello che effettivamente è impedito al diritto internazionale di funzionare è l'impossibilità di costringere i paesi potenti o egemonici come sono stati gli Stati Uniti fino a 5 minuti fa totalmente egemonici ad adempiere o Israele ad adempiere alle proprie obbligazioni pure liberamente assunte sotto il diritto internazionale quindi il diritto internazionale è una vittima da un certo punto di vista ma nell'evoluzione che stanno assumendo le cose può essere perché questa è la molla del suo riscatto perché ricordiamoci che quando l'ONU è stata fondata nel 1900 alla fine della seconda guerra mondiale nel 48 49 c'erano solo 51 stati a firmare quello statuto oggi ce ne sono 193 e tutti questi nuovi stati fino a poco tempo fa non avevano la possibilità di esprimere alcuna soggettività o perché effettivamente dominati dal punto di vista fisico o economico da le potenze imperiali quindi si tratta di schierarsi col diritto internazionale di prestare attenzione alle nuove organizzazioni che pure stanno prendendo piede come i BRICS i BRICS nei loro comunicati la prima cosa che fanno è sempre un richiamo diretto al diritto internazionale allo statuto delle Nazioni Unite alla centralità dell'ONU come luogo istituzionalmente deputato alla risoluzione pacifica delle controversie attraverso la politica attraverso un diritto internazionale fondato sul principio di realismo come è stato quello portato avanti diciamo dalla fine del dopoguerra fino al agli anni novanti fino alla caduta dell'Unione Sovietica e perché l'ordine che ha retto il caos internazionale fino a oggi non è quello che nasce dal dopoguerra perché ci manca ci manca un passaggio fondamentale che a partire dagli anni settanta con la dissoluzione di Bretton Woods e l'inizio del da parte degli Stati Uniti dell'utilizzo del dollaro come strumento fondamentale della propria politica estera quindi da Bretton Woods e poi chiuso con la con la caduta del muro c'è il Washington Consensus prima c'è gli alti i due blocchi eccetera eccetera ma con la fine della guerra fritta il Washington Consensus e cioè il dominio egemonico americano il cui potere imperiale si esprimeva attraverso il dollaro ecco ora questa cosa è certamente arrivata agli sgoccioli noi possiamo pure far finta che non che sia un processo a divenire ma è un processo che effettivamente oggi già sta succedendo se nel 2020 la Russia pagava le sue transazioni internazionali all'80% in dollari oggi grazie alle sanzioni ne paga il 33% in rubli il 33% in yuan e il resto in altra moneta cioè una delle conseguenze non volute probabilmente da questa diciamo da questo conflitto ovviamente perché poi ecco c'è conflitto proprio perché è incerto il risultato è un'accelerazione dei processi di dedollarizzazione e con essa delle ginemonie statunitense che appunto per questo si concentra su se stessi e sui propri alleati per cercare di mantenere il proprio dominio l'Unione Europea cerca di farsi soggetto per quanto può sicuramente ha paura del futuro e dovrebbe farlo secondo però dei principi che non sono né democratici diceva bene che non sono assolutamente democratici né liberali anzi anzi c'è un'inversione della concezione dello Stato allora se prima fino a un certo punto di vista si diceva lo Stato cioè l'arretramento dello Stato a favore della libertà del mercato adesso lo Stato le istituzioni statali sono al servizio dei poteri economici al servizio della grande industria è proprio una cosa una degenerazione assoluta e totale assolutamente antidemocratica e mi firmo grazie Andrea Amato ha chiesto di intervenire prego allora io non so se debbo compiacermi o arrabbiarmi con con Roberto Musacchio perché mi ha scambiato per Kissinger era Kissinger che aveva detto ma quale campanello devo suonare io quando voglio parlare con l'Europa insomma no no ho solo detto che lo ricordavi non mi ricordavo la citazione no io ho mai ricordato non mi non mi confondere con Kissinger e con la sua storia se non per una questione di età allora però restando sempre le cose che hai detto perché io un giorno sono d'accordo al cento per cento con Roberto e un altro giorno no non so se dipende da me o se dipende dal fatto che lui un giorno dice una cosa e un altro giorno non dice un'altra detto questo è vero l'Europa la scelta bellicista l'ha fatta autonomamente cioè l'ha fatta pienamente più che autonomamente pienamente fin dall'inizio però chiediamoci ma perché quando diciamo c'è stata la crisi parlo di crisi cioè alla vigilia dell'invasione da parte di Putin dell'Ucraina dove bastava un intervento delle Nazioni Unite degli Stati Uniti per voglio dire evitare l'invasione l'Europa non l'ha fatto e perché è andato dietro agli Stati Uniti ma aveva delle ragioni diciamo economiche no perché quello che è successo con il petrolio dimostra tutto il contrario vuole dire l'Europa ci ha ci ha rimesso è stata ridotta alla miseria per due anni a causa della guerra in Ucraina l'ha fatto perché ci sono diciamo come dire quello che diceva Paolo Rempo ci sono c'è una subordinazione che è al tempo stesso economica politica ideologica degli stati dei governi al potere in Europa nei confronti degli Stati Uniti allora questa cosa voglio dire è vero è andata di pari passo anche con un'idea di autonomia dell'Europa allora all'inizio questo discorso di autonoma di integrazione diciamo dell'Europa aveva i connotati se voi molto come dire idealistici no di Spinelli eccetera eccetera ma nella realtà nella realtà tutti sappiamo bene che l'Europa è nata con diciamo non il cappello ma con la volontà diciamo anche degli Stati Uniti proprio per fare diciamo un baluardo nei confronti dell'Unione Sovietica ciò nonostante ciò nonostante io dico che ora questa questa diciamo volontà che alcuni poteri anche in Europa esprimono di autonomia penso penso a Draghi penso a Draghi cioè al all'ipotesi di Draghi di un'Europa diciamo che abbia un'autonomia strategica dal punto di vista economico eccetera eccetera ovviamente non non è quello che che a noi può andar bene no? Perché non farebbe altro che portare alle estreme conseguenze diciamo questo processo in cui ci sono alcuni governi sempre diciamo in numero limitato quindi una sorta di di egemonia di autocrazia di alcuni governi all'interno dell'Europa che decidono sulla testa sulla testa degli altri e questo è quello che diciamo si sta profilando allora di fronte a questo io non capisco se siamo ancora diciamo a un'età politicamente così immatura in cui non riusciamo a capire che non ci sta non ci sono solo i poteri economici e la lotta di classe che diciamo li contrasta c'è per la battaglia dei lavoratori delle classi subalterne eccetera c'è anche un altro elemento che è dato dalle istituzioni dal quadro delle istituzioni dello Stato cioè voglio dire dopo dopo la resistenza e beh che cosa che cosa è stato fatto è stato si è pensato a costruire uno Stato uno Stato in cui come dicevano i nostri padri la democrazia la forma democratica più o meno perfetta più o meno compiuta eccetera è quella che garantisce di più per garantire di più lo spazio di agibilità del movimento operaio della classe operaia eccetera eccetera ora io non capisco perché quando si parla di Europa questa cosa qui nell'ambito della sinistra non la si riesce a capire voglio dire se si parla di Stato europeo e beh si pensa che ne so a qualche cosa che va appunto nella direzione di quello che vuole Draghi io semplifico scusate banalizzo eccetera ma solo perché siamo tra di noi e ci capiamo e è stato detto le questioni sono economiche non politiche giusto ma ricordatevi come è nata la globalizzazione la globalizzazione è nata con decisioni politiche prese in un certo momento in certi diciamo precise circostanze che possono essere messe in fila con le date nel giro di 4 5 6 anni decisioni politiche prese dalla Thatcher e da Reagan e questo ha cambiato il mondo sul piano economico e sul piano politico e allora le decisioni politiche chi li prende? Li prendono i governi ritorniamo sempre lì non possiamo sottovalutare a questo punto il fatto di avere di poter avere a disposizione una istituzione statale che in questo caso non può essere il singolo stato nazionale di questa di questa Europa ma qualche cosa che riesca ad avere una sua voce a livello mondiale se se non appunto pensando a questa cosa va beh mi fermo qua basta grazie Andrea io non ho altre persone che vogliono intervenire non so se qualcuno invece vuole farsi avanti nel frattempo ricordo solo che se parliamo di sottomissione rispetto dell'Europa rispetto agli Stati Uniti forse bisognerebbe andare indietro al 2018 è un caso emblematico rivelatore di questa di questo desiderio diciamo così di sottomissione è il caso dell'accordo sul nucleare iraniano perché lì i firmatari insieme ad Obama erano e all'Iran erano la Francia la Russia scusate la Francia la Germania l'Inghilterra poi c'era anche la Russia e la Cina quando Trump diciamo senza dare troppo avviso anche se lui aveva un consigliere della sicurezza nazionale che si chiama John Bolton che è sempre stato un attivista contro l'Iran diciamo con un decreto presidenziale perché vi ricordo che Obama aveva firmato ma il congresso al congresso non aveva la maggioranza per passare quell'accordo e quindi venne firmato con un decreto presidenziale il decreto presidenziale negli Stati Uniti viene usato in maniera molto sistematica soprattutto quando i presidenti non hanno una maggioranza e quando basta però una firma di un altro decreto presidenziale del successivo presidente per annullare i decreti precedenti e quindi in questo in quel caso l'Europa tra cui ovviamente l'Italia ha accettato quasi senza colpo ferire ecco questa decisione che ha chiaramente danneggiato diciamo la Francia la Germania ma anche l'Italia nei suoi traffici e lì il punto era le sanzioni ecco il discorso che faceva anche Michela rispetto al tema del dollaro per cui se tu c'erano le sanzioni primarie le sanzioni secondarie per cui se tu compravi il petrolio iraniano ti beccavi diciamo l'esclusione dal mercato americano e dovevi pagare delle penali ecco questo era per ricordare che appunto da lì che forse poi siamo nel 2018 poi l'Europa in qualche misura forse quello è stato il primo momento in cui il segnale è arrivato che diciamo l'America aveva intenzione di ripristinare il suo ruolo dominante almeno nei nostri confronti ecco c'è qualcuno che vuole intervenire se no possiamo anche credo chiudere in ogni caso ecco io vi ringrazio tutti perché Alessandro chiedi a Maria Luisa e a Pasqualina se hanno avrà concluso no no grazie è interessante ma Pasqualina vuoi dire qualcosa? no assolutamente penso che sia stato molto interessante tutta questa discussione che rimane aperta mi pare no quindi non è il caso di ritornarci ancora adesso in ogni caso credo che diciamo chi fa parte dell'osservatorio può essere più che contento noi abbiamo pensato a questo discorso della newsletter proprio per come dire anche come strumento di maggiore apertura dell'osservatorio stesso per cercare appunto di coinvolgere attivamente il più attivamente possibile anche questa forma poi di discussione che ci sarà sistematicamente per ogni newsletter quindi una volta al mese rispetto al tema che via via verrà affrontato verranno affrontati ecco e credo che oggi insomma questo ci conforta molto perché ecco si riesce poi anche partendo diciamo un po' dai materiali a ragionare insieme che credo in questo momento sia chiaramente almeno per noi la cosa fondamentale perché abbiamo bisogno un po' di di ristabilire diciamo i rapporti le relazioni e soprattutto di ragionare insieme quindi io vi ringrazio tutti scusa Alessandro una sola aggiunta a quello che hai detto il prossimo numero della newsletter sarà sulle rivolte agricole su diciamo degli agricoltori eccetera quindi tutti quelli dell'osservatorio e non che hanno degli articoli dei documenti delle cose che possono essere che pensano che possono essere interessanti da includere nel prossimo numero ce le mandino per favore grazie grazie e solo per ringraziare anche il CRS Maria Luisa Boccia Pasqualina grazie a voi di aver accettato l'invito e grazie anche della collaborazione a cui a cui teniamo moltissimo anche per dare forza al concetto di pace che noi come abbiamo capito è l'asse fondante anche per una nuova sinistra continente non soltanto in Italia grazie ancora a tutti e a tutte ciao 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 alla prossima rivederci grazie ciao